Musica Tendenza a ballottaggio anche in Toscana dopo il primo turno di voto delle amministrative. 2017 l'affluenza alle urne è scesa dal 61 al 56,7%, un brutto segnale di disaffezione da parte dei cittadini. I comuni al voto erano 33, di cui solo 6, con più di 15.000 abitanti, di questi sindaci riconfermati soltanto in tre casi, tutti del centro-sinistra. Marco Mazzanti, Acquarrata, Cristiano Benucci, Reggello, Alessandro Del Dotto, Acca Maiore oltretutto, con un annuncio di ricorso da parte dell'avversario del centro-destra Gian Paolo Bertola. Ballottaggio invece nei due capoluoghi Lucca e Pistoia, dove nessuno dei sindaci uscenti del centro-sinistra ce l'ha fatta al primo turno, per colpa soprattutto delle divisioni interne al PD. E così a Pistoia, Samuele Bertinelli, 37% delle preferenze, dovrà vedersela con Alessandro Tomasi, il candidato del centro-destra, arrivato al 27%. Ide Mallucca, dove Alessandro Tambellini, 37,4% dei voti, sfiderà il candidato del centro-destra, Remo Santini, distaccato appena di tre punti. Per la cronaca, l'unico candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, passato al secondo turno in Toscana, è stato a Carrara Francesco De Pasquale, 27% dei consensi contro il 25% del candidato del PD, Andrea Zanetti. Per quanto riguarda gli altri comuni, è diventato un caso nazionale Rignano sull'Arno, il paese di Mattaorenzi, dove il sindaco uscente Daniele Lorenzini, sostenuto da una lista civica, ha stravinto con il 48% dei voti sulla candidata del PD, Eva Uccella, questo nonostante la rottura di due mesi fa con Tiziano Renzi e tutti gli altri democratici. Anche questo probabilmente è un segnale. Quasi 700 auto e 25 pullman è la capienza del parcheggio scambiatore di Villa Costanza sull'autostrada A1 a Scandicci, il primo nel suo genere in Italia. Giornata di inaugurazione alla presenza tra gli altri del ministro dei Trasporti Graziano Del Rio e del viceministro Riccardo Nencini, ma anche dei sindacati in protesta contro la mancata assunzione di personale per la gestione della struttura. L'opera, costata 16 milioni di euro, è stata realizzata in un anno da Autostrade per l'Italia e permetterà di lasciare l'auto direttamente in A1 per prendere la tramvia e raggiungere il centro di Firenze in meno di mezz'ora. Per ora una sperimentazione, poi si vedrà. Questo è un prototipo che può essere seguito anche in altre città. Noi abbiamo degli impegni europei, ma soprattutto abbiamo degli impegni con i nostri cittadini. A mantenere gli impegni che prendiamo e il parcheggio è il mantenimento di un impegno. Il parcheggio scambiatore, che arriva a pochi giorni dall'apertura del bypass del Galluzzo, rientra nel potenziamento della terza corsia della A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud ed è organizzato in due aree per accogliere sia chi arriva dall'autostrada che chi arriva da Scandicci. Porterà un grande beneficio a chi deve recarsi al lavoro, ai turisti, ma anche a chi risiede, abita in città perché vedrà una diminuzione dell'afflusso dell'auto individuale, cioè quelle auto che ingolfano, che peggiorano la qualità dell'area. Intanto si guarda già all'interconnessione del parcheggio con le future linee della tramvia. Consentirà a centinaia di migliaia di persone di lasciare l'auto qui ad un prezzo sostenibile e prendere il tram. Oggi per arrivare in centro, domani con le linee 2 e 3 per arrivare all'aeroporto piuttosto che all'ospedale o ad altre zone della città. Per i sindacati FIT CGL, FIT CISL, Wiltrasportis, LA CISAL e UGL che hanno organizzato il presidio di protesta, però il parcheggio di Villa Costanza rischia di non essere all'altezza delle aspettative. Per la mancata presenza 24 ore su 24 degli operatori ai caselli, obbligatoria per disposizione dello stesso Ministero dei Trasporti, la richiesta dei sindacati ora è che si proceda con un piano di assunzioni. Unire beneficenza ed educazione in un unico progetto è questo l'obiettivo principale della campagna Elio e i Cacciamostri promossa da Ennegan in collaborazione con giunti progetti educativi. Alla sua seconda edizione il concorso vanta numeri importanti, oltre mille classi in 40 province italiane per oltre 25 mila alunni coinvolti. L'intento della campagna è sensibilizzare i più giovani al tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale attraverso un libro a fumetti e una app realizzati pensando ai più piccoli. Per noi è molto importante perché coniuga due aspetti fondanti di Ennegan, essenzialmente il rispetto dell'ambiente, quindi insegnare bambini a divertirsi e insegnare bambini come rispettare l'ambiente divertendosi, e l'aspetto sociale, quindi la responsabilità sociale che per noi comunque è da sempre uno dei valori fondanti. Il progetto destinato alle classi primarie e alle famiglie è stato implementato con un'applicazione per smartphone che permette agli utenti di guadagnare crediti che successivamente Ennegan tradurrà in un contributo economico donato all'ospedale Mayer di Firenze.